28 ottobre 2020 ora 16 comuni con amarsi mi trovo qui in località castagnetolana castagnetolana diretti c'è un castagnetolana quota cosa dovrebbe essere pensi 850 metri 100 metri e qui si evidenzia gente che viene con motocross e fa vedi vabbè ognuno fa come quale ci pare vabbè lo salgo sopra allora io vado direttamente siccome non c'è il castagnetolo vado direttamente l'epicentro dove di solito trovo le castagne però quest'anno le castagne sono poco sì qui qualcuno all'ultimo che sbucciata qualcuna piccola se ce n'è qualcuno ce n'è vediamo sopra cosa trovo adesso devo fare un ascesa ripida me sono abbastanza allenata allora quanti ci va cerca in cerca di tartufi o di funghi o di castagne quando se ne ha in abbondanza non si apprezza quanto sono poche sembri di avere loro sì c'è qualche castagna adesso sì 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 c'è io domani vengo qui domani piccole che sono ci stanno le castagne domani vengo qui e vengo a fare le castagne non sono mute sono piccole sono buona e certo per venire qua bisogna essere allenati se una persona allenata qua fatica suda si stanca qua i muscoli si sente sembra qua tre settimane fa ma tre settimane fa non c'era assolutamente nulla comunque sia le castagne sono poche questi sono i vecchi ricci quelli nuovi sono più chiari vedi queste queste no queste no io vado sopra spero di trovare le castagne quelle buone quelle più buone va bene qua c'è la bifurcazione questo castagneto circa 42 anni fa anzi non 42 circa 45 anni fa qua sono stati diradati i castagni quelli che erano vecchi quelli malati e di fatti adesso queste castagne questi castagni hanno avuto un accrescimento ricoglioso ma spazio 45 anni era ragazzo ma gli anni sono passati sono una classe 1955 vedi qua sembra notte scusa io ho vissuto sempre nel bosco anzi qua ogni anni ogni anno è stato sempre frequentato pieno di cinghiali i cinghiali qua vengono e mangiano tutti tutti di più però fino adesso non vedo l'imbronte di cinghiali ed ecco sono giunto arrivato eh sì qualche bella castagna c'è ecco qua quella che io cercavo adesso mi soffermo qui e raccolgo le castagne sì 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 ci sono ci sono per ricercarlo adesso